Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Il codice delle creature estinte, l'opera perduta del dottor Spencer Black. Questo libro viene venduto e presentato principalmente come una raccolta di modelli anatomici di creature fantastiche, creature mitologiche per essere più precisi. Il che potrebbe sembrare un po' poco interessante, soprattutto per una vera e propria recensione. Infatti non c'è solo questo, nonostante molti siti, anche Amazon stesso, non lo, secondo me, enfatizzano abbastanza, all'interno, prima della parte di modelli anatomici di cui parleremo, abbiamo all'incirca 80 pagine di biografia del dottor Spencer Black. Chiarisco subito che il dottor Spencer Black è un personaggio di finzione, quindi non solo chiaramente i modelli sono inventati, ma anche la storia alla base un po' alla Manzoni, un po' a Promessi Sposi, ok? Hanno deciso di creare un personaggio che ha costruito delle cose e si pensa, appunto, tutta questa biografia e i modelli in realtà nascono perché si sono ritrovati i reperti. Nonostante la biografia rappresenti a livello di marketing una porzione veramente piccola, perché appunto se ne parla poco, viene enfatizzata poco, è una storia breve, è comunque estremamente interessante e mette un po' l'ansia, sì. A me verrebbe da dirvi anche che è una piccola storiella horror molto facilmente, a me è piaciuta, si leggono magari un pochino a fatica perché è scritta come una vera e propria biografia, quindi devi seguire un pochino le tempistiche, però sono 80 pagine, si fa leggere molto velocemente, con molta tranquillità. Non so come mai ho detto 80, ma sono 65, se vogliamo essere precisi, non mi ci sono nemmeno avvicinata. In particolare vediamo che già da molto giovane Spencer seguiva e aiutava il padre medico, che dato il periodo storico del 1860, se ricordo bene, era un periodo abbastanza importante per la scienza e soprattutto per i saccheggiatori di tombe a livello scientifico e medico. Quindi passa un'infanzia e un'adolescenza molto particolare, perché giustamente rimprovera al padre le proprie scelte, per poi ossessionarsi in età adulta alle creature fantastiche, perché decide di voler dimostrare in qualsiasi modo, senza considerare che si sta diventando come il padre, cioè privo di scrupoli, per riuscire a dimostrare una sua tesi. In particolare le sue teorie erano che le creature mitologiche fossero esistite veramente e che si trattava di nostri antenati. Abbiamo parlato dell'introduzione, diciamo, di questa biografia, possiamo parlare del fulcro, ovvero è proprio il motivo per cui una persona compra o meno questo libro, di fatto, cioè oggettivamente, le tavole anatomiche. Dovete sapere che io sono estremamente appassionata e interessata alla mitologia, alla criptozoologia, che è quella branca di non scienza, nonostante si chiami criptozoologia, dello studio di animali e di creature ipoteticamente esistenti, come l'esempio più classico è lo Yeti, il Bigfoot, il mostro di Loch Ness e via dicendo, e l'ambito delle creature fantasy in generale, vedere che cosa le persone riescono effettivamente ad inventarsi, cosa gli salta fuori dalla testa, è incredibile. Di conseguenza penso di avere il minimo indispensabile di autorità per potervi dire che questo libro, se voi condividete questa passione, è un must have, dovete assolutamente averlo. Ci sono all'incirca 11 creature, che sembra poco, ma va in un livello di dettaglio e di analisi estremo, per il quale tu devi essere uno un pazzo e due un maniaco dei dettagli, e lo dico nel modo più gentile possibile ed è una cosa positiva in questo caso, sono estremamente precisi e realistici, ovviamente per il loro contesto. La sirena e l'arpia sono estremamente precise, hanno delle tavole aggiuntive, in cui addirittura viene descritto il sistema respiratorio, il sistema riproduttivo, per le arpie ci sono le uova che rappresentano come la piccola arpia sta dentro l'uovo, è incredibile. Secondo me quest'opera ha un ottimo equilibrio, perché abbiamo prima una parte in cui fondamentalmente leggi e basta, ci sono delle immagini per dare contesto, ma è principalmente leggi e basta, e poi una parte dopo in cui guardi e basta, e sei totalmente... ti senti proprio lanciato dentro e guardi e ti sembra veramente di vedere delle tavole anatomiche di un essere esistente. Una delle cose che mi sconvolge di più a livello oggettivo, quindi non del libro ma del contesto, è il prezzo. Prezzo di copertina 20 euro. Se vi interessa il romanzo 20 euro sono giusti, se vi interessa le tavole 20 euro sono giusti, se vi interessa l'intera cosa 20 euro sono... quasi te lo stanno lanciando, nell'ambito ovviamente di economia dei libri. Quindi sono cose positive, da dire onestamente, questa edizione è molto molto figa. L'unico problema è la copertina, che essendo un po' opaca, purtroppo io non penso di riuscire a farvelo vedere, perché non vedo cosa sto riprendendo, però ha tutte le mie rigate, rimangono tutti i segni che non si possono togliere. Questa è veramente una cosa che odio, ma per il resto è molto bello. Poi è rigido, e anche mettendolo così, o anche l'occhio vuole la sua parte, è veramente bello. Cioè, è proprio quei libri antichi, è veramente bello. Fatemi sapere voi che ne pensate, se l'avete letto o se lo leggerete, che cosa ne pensate delle tavole. Se avete qualche informazione aggiuntiva, nei commenti ascolto molto volentieri. Vi ricordo nuovamente il link per donare all'associazione ucraina, in particolare questa a cui faccio riferimento io, è un'associazione all'interno dell'Ucraina che va ad acquistare con quei soldi che vengono donati ciò di cui si ha bisogno, che può essere cibo, possono essere vestiti, ma possono essere anche garze, cerotti, e tutto quello che serve in realtà, in base a quello che serve. Quindi se volete dare un aiuto un pochino più concreto, nel senso che sapete anche effettivamente dove finiranno quei soldi, il link ve lo lascio nelle schede e nella descrizione. È la primissima cosa che vedete. Tra l'altro, forse qualcuno se ne sarà accorto, ditemi se ve ne siete accorti, ma io ho fatto un ragionamento l'altra sera, cioè che la mia sedia è regolabile. Quindi ho detto, beh, ma per fare i video posso alzarmi, così l'inquadratura è un pochino meglio. E quindi, ho alzato, e niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.